1982-2022, 40 anni del gruppo musici e sbandieratori del Cassero di Castiglione Fiorentino. Siamo con il presidente del Rione Cassero, Michele Falomi, un anno molto particolare per il Cassero. Sì Roberto, buongiorno a tutti. Assolutamente un anno particolare per tanti motivi. Il primo perché è quello che tutti ormai in giro osiamo definire l'anno della ripartenza. Per noi cade in un anno importante. Nel 1982 il Rione Cassero, nella sfilata del Paglio di quell'anno, portò in piazza per la prima volta un gruppo storico di musici e sbandieratori. Noi abbiamo l'onore di ricordare e di riportare un po' indietro in quei momenti e quindi quest'anno abbiamo deciso di farlo in una maniera un po' particolare con dei festeggiamenti ma con un evento importante che è la creazione di un ricordo dedicato a questi 40 anni che è un fazzoletto dedicato e è il fazzoletto che porto al collo io. Ecco che poi presenteremo anche con l'artista che ha realizzato questo fulare ma cogliamo l'occasione di avere il presidente anche per fare una battuta sul Paglio. Quest'anno ritorna il Paglio dopo due anni di stop, chiaramente al di là delle aspettative che sono tantissime come si vive a Castiglione questa attesa visto che tra poco si correrà al Paglio? Beh, è un'attesa che ormai possiamo dire è lunga due anni onestamente parlando dico noi l'abbiamo vissuta un po' meglio sicuramente degli altri perché nel 2019 siamo usciti da piazzale Garibaldi vittoriosi e quindi abbiamo vissuto questi due anni con un po' più di tranquillità ma allo stesso tempo con sensazioni importanti, sensazioni di mancanza di mancanza del Paglio, di mancanza di questi colori, di mancanza delle bandiere di mancanza di una vita aeronale che a Castiglione Fiorentino ritengo sia importante. Noi oggi iniziamo quella che tu anche conosci molto bene che è una discesa fino alla terza domenica di giugno perché questa mattina facciamo questa presentazione del quarantennale i festeggiamenti poi saranno fatti a settembre quindi in una data di settembre che ancora dobbiamo decidere con tutte le varie situazioni, feste insieme all'amministrazione ma alle 17 il gruppo uscirà per la prima volta per quest'anno a Castiglione Fiorentino alle 18.30 si parte con le celebrazioni di San Giorgio e da qui ci tappiamo il naso, facciamo il tuffo e per i prossimi a oggi dico 58 giorni ma per noi ormai è iniziato da tempo ma sono quei 50 giorni fino ai tre giri di Piazzale Garibaldi noi ci arriviamo come sempre con tante aspettative la Commissione Paglio sta già lavorando da mesi per portare la qualità come sempre abbiamo dimostrato ai nostri rionali a Piazzale Garibaldi il Cassero non si può nascondere, lo sapete tutti perché Mirko Baroncini e il suo staff sono ormai da tempo nella bocca di tutti i nostri fantini, è inutile giocare a nascondino, si sanno, si conoscono Walter ormai a Castiglione Fiorentino è un veterano, il re della piazza sarà con noi, sarà con noi a Trantopalli da lì Mirko costruirà lo staff migliore per portare al Cassero le soddisfazioni più grandi e siamo con Tommaso Andrini, l'artista che ha realizzato il fular celebrativo per il rione Cassero tra l'altro è un pittore che conosciamo anche in ambiente di pali perché tra l'altro ha avuto anche il grande onore di dipingere un drappellonassiano per cui credo che per un senese sia veramente una cosa eccezionale come è nata l'idea di questo fular? Buongiorno a tutti, innanzitutto si è parto un po' dalla preistoria perché mi fui contattato da Michele Falomi che c'era già amicizia fra di noi in quanto avevo fatto altre cose per il rione Cassero e per il Castiglione Fiorentino in generale e mi chiese appunto di fare un progetto di ideare un bozzetto per la realizzazione di questo fular io li feci, mi ricordo, tre progetti, tre bozzettini e avevo fatto una ricerca storico-culturale in cui guardando anche i vecchi fular, i vecchi bandieri perché è giusto anche che uno prenda spunto anche dalla concezione storica su cui è basata questa festa la vostra festa, quindi insomma io avevo avuto un'idea e l'ho buttata giù, gliel'ho proposta in tre soluzioni e poi mi chiese anche il fazzoletto per la bimba che da lì a poco sarebbe dovuta nascere e allora io gli feci anche il fazzoletto, il fular per la bimba e poi è stato quello, veramente diciamo il bozzetto su cui si è basato il vero fular e questa è una cosa romanticissima, bellissima con delle piccole modifiche perché era giusto insomma non copiare il fazzoletto fular che sarebbe stato della bambina della figlia, della cittina quindi è una grande esperienza bene, allora abbiamo ricordato che sei stato anche autore di un drappellone a Siena nel 2016 se non erro raccontaci le tue emozioni perché sicuramente è una cosa indescrivibile di poco sì, allora pensate che per uno che di professione fa il pittore fa l'artista, arrivare a dipingere il palio è veramente un... è come quando sali una rampa di scale e ti rendi conto che poi con questo poi diventa... è una cosa molto personale perché non è che sei arrivato chissà dove sostanzialmente ho fatto mostre importanti in tutta Europa dove forse anche più importanti a livello diciamo nel mio lavoro però per me, per senese e poi non ci scordiamo che il palio di Siena è una golosità anche per i pittori più grandi pittori viventi e nonne di tutto il mondo Botero, Gottuso mi viene in mente migliaia di nomi di artisti nella storia attuali e passata storia passata che hanno avuto l'onore uno tra gli ultimi, Mino Manara per dire che era emozionatissimo per farvi capire quanto prende poi questa... è chiaro che un pittore senese è stata una bella cosa Ecco, l'hai già anticipato te chiaramente per uno che vive questo mondo dei pali e manifestazioni storiche e nel tuo caso essendo anche un senese è un qualcosa di indescrivibile anche se hai già ricordato che la tua attività si svolge anche in ambito internazionale con le varie mostre a cui partecipi Sì, sì, infatti io per correttezza mi garba sempre diciamo fare una distinzione tra il lavoro quello lì che produca lo studio che poi va fuori dallo studio ovvero opere che vanno in giro per il mondo in Italia ma anche all'estero proprio ieri a Venezia ma è giusto insomma legare sì ma anche differenziarla il mio lavoro da queste... da quando produco queste cose che per me qui c'è veramente tanta soddisfazione cioè se quello mi fa vivere e mi dà diciamo quotazione questo mi dà libidine diciamo la verità perché il contatto con le persone con i rioni con la storia il fattore storico in ogni festa in rievocazione c'è una una matrice storico-culturale artistica bestiale non indifferente e a me pensare di essere un tassellino ecco questo tra cent'anni ci sarà sempre e io no ma questo con la mia firma ci sarà sempre e questo diciamo quello che ti dà veramente soddisfazione è vedere un popolo che lo indossa insomma questa è la parte più romantica e bella io dico sempre se avessi cento lire con ogni soddisfazione sarei l'uomo più ricco del mondo complimenti e col sindaco Maria Agnelli siamo già in clima palio dopo due anni ritorna la tradizionale corsa per la madonna del rivaio è un'emozione anche per il sindaco eh sì è un'emozione basta pensare ecco che fino a ieri la pioggia le nuvole oggi invece il sole questo prato qui intorno al cassero che fa vedere queste 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 fioriture e che dà l'idea proprio della primavera della rinascita è più che una rinascita un'ambiziosa programmazione del rione cassero che sta organizzandosi per tutta la propria attività ma poi diciamo che sta facendo anche un ottimo lavoro dal punto di vista della della programmazione e anche dei dettagli della cura dei dettagli il fazzoletto come è stato presentato le ricorrenze gli anniversari insomma ecco se considero perché me lo ricordo bene che quattro mesi fa nel mese di gennaio a inizio anno avevo preannunciato quest'anno il paio si corre con le buone con le cattive ma si corre e l'avevo detto insomma anche scongiurando altri pericoli altri problemi che potevano venire fuori legati magari anche alla pandemia e ai venti che erano immaginabili come per esempio anche l'emergenza ucraina o della guerra ecco oggi pare che questo traguardo sia alla portata e quindi nel giro di due mesi meno di due mesi a questo punto Castiglione Fiorentino riviverà delle emozioni io ecco dentro di me la sento l'emozione quindi mi immagino che i renali saranno ancora più emozionati di me